Finalmente, dopo oltre dieci anni di attesa e di ritardi, la terza vasca del depuratore di Querceta è realtà. Il nuovo impianto, inaugurato dalle amministrazioni di Seravezza e Forte Remarmi, servirà anche parte di Pietrasante Montignoso, aumentando da oggi la sua capacità depurativa del 40%. Un intervento decisivo nella lotta all'inquinamento dei fiumi e ai conseguenti divieti di bagnazione, purtroppo all'ordine del giorno, viste le troppe utenze non allacciate. Soddisfatto il sindaco Riccardo Tarabella e soprattutto Bruno Murzi. Con la terza vasca Querceta potrà essere dismesso il vecchio depuratore del Forte. Grazie infatti alla nuova linea di trattamento biologico e ad un ulteriore sedimentatore secondario, l'impianto di Via Rotta passa da 33.000 a 47.500 abitanti equivalenti e già si pensa ad una quarta vasca. È un depuratore potenziato con la terza vasca, aumenterà di circa 17.000 unità gli utenti che si possono servire di questo depuratore, sicuramente con effetti positivi sulla capacità depurativa e quindi sulla balneazione ed effetti positivi anche in riduzione di cattivi odori grazie agli edifici che sono stati costruiti per contenere appunto l'emissione di cattivi odori da parte delle linee fanghi. Gaia ha annunciato anche imminenti lavori per 10 milioni di euro per l'adeguamento entro il 2020 dei depuratori di Camaiore, Pietrasanta e Viareggio. Per quest'ultimo si prevede la fine dei lavori entro due anni. È importantissimo la realizzazione del nuovo depuratore di Viareggio dove siamo in fase autorizzatoria, poi partirà la gara d'appalto e in fase di progettazione esecutiva invece tutti i potenziamenti dei tre depuratori di Camaiore e anche quello di Pietrasanta. Interventi chiave quelli di Gaia in Versilia non solo per la depurazione ma anche per le fognature inseriti nell'accordo di programma sulla balneazione firmato nel 2014 con Comuni e Regione. Considerate che ogni anno più o meno sono previsti circa 30 milioni di euro di investimenti. Come dicevo gli investimenti che ho delineato prima sugli impianti depurazioni sono previsti per i prossimi anni, entro i prossimi cinque anni la conclusione.